Girovagava per le campagne di Mondolfo, ma durante un controllo i carabinieri lo hanno fermato e arrestato. L'uomo infatti, un 48enne di Senigallia, ma nativo della provincia di Lecce, era sottoposto alla sorveglianza speciale, con obbligo di soggiurno nel comune di residenza. Era sera, quando i militari hanno notato e seguito un'autosospetta, tant'è che pensavano di aver intercettato una banda di ladri. E invece, dentro alla Citroen Xara, c'era l'uomo alla guida, con a fianco una donna. In apparenza sembrava una normale coppia in cerca di intimità, ma quando i carabinieri hanno chiesto i documenti, la donna ha detto di avere dei crampi addominali, brividi e mancanza di fiato. Il 48enne esagitato ha raccontato che la convivente soffre di crisi di panico e che, per questo motivo, era appena uscito da un incontro con la psicologa che la segue. L'esagerata fretta di andarsene, l'agitazione e soprattutto la presunta visita allo psicologo in tarda serata hanno insospettito le forze dell'ordine che hanno chiamato l'ambulanza per accertamenti. A confermare i sospetti è stato proprio il medico del 118. La donna non aveva nessun attacco di panico, era solo una scusa per cercare di svignarsela. Una volta accertato che l'uomo era un sorvegliato speciale, con precedenti perfurti in abitazione e che non aveva nessun permesso per recarsi a Mondolfo, è stato condotto in carcere. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha disposto al pregiudicato l'obbligo di firma giornaliero.